Lei, ancora una volta alle mie spalle, questa volta non è la BYD Seal ma è la BYD Dolphin. Un po' più piccola, sempre diciamo completamente legata al concetto di oceano, delle onde, fluido e così via, stavolta non è la foca ma il delfino. Lo si vede fin dall'esterno che si tratta di un segmento C, auto completamente elettrica, ovviamente BYD, ricordiamoci, acronimo di Build Your Dreams, produttore cinese di auto che produce esclusivamente auto elettriche. D'altronde hanno un know-how con le batterie praticamente infinito che parte dal lontano 1995. Considerate che ognuno di noi probabilmente da qualche parte, in qualche dispositivo elettronico, potrà avere una delle loro batterie, allora hanno pensato, perché non facciamo anche auto elettriche? Ed ecco qui, questa è un'altra della gamma, si chiama Dolphin. 4 metri e 29 di lunghezza per questo segmento C che cerca di andare a spodestare un po' quello che è il primato di auto elettriche europee, come ad esempio la Volkswagen ID. Il design è sempre quello particolare di BYD. No, a partire da dietro, io solitamente parto dall'anteriore ma a questo punto voglio partire dal posteriore. Innanzitutto la scritta Build Your Dreams, come vedete è per esteso, come per esempio sull'atto 3 che già vi ho portato sul canale tempo fa, sempre nel corso della prova nazionale, del test drive nazionale. Ma guardate quanto è ricercato il design di tutti i gruppi ottici posteriori, soprattutto qui nei lati che si congiungono con questa sorta di fascione posteriore. Quindi anche qui BYD conferma ancora una volta la volontà di fare questa linea da lato a lato posteriore, che poi d'altronde aiuta a dare sempre anche una sensazione di larghezza, che non fa mai male. Considerate che adesso è anche un po' una moda quella delle luci che vanno da lato a lato, delle posizioni che vanno da lato a lato, ma tutta la parte, ad esempio di aerodinamica, ricordate che per quanto riguarda le auto elettriche è sempre estremamente importante un occhio all'aerodinamica, perché bisogna spillare chilometro dopo chilometro dalle batterie, chiaramente c'è il, tra virgolette, problema della ricarica, che non è ovviamente come fare un rifornimento di carburante tradizionale, che impiega pochi minuti, seppur le prestazioni delle batterie siano estremamente performanti, ma chiaramente bisogna prevedere magari delle pause leggermente più lunghe, hai, diciamo, in grosso modo una sorta di pausa a caffè. Nella parte anteriore, come vedete, la totale assenza di una mascherina. Dove vedete scritto qui BYD, in realtà non è assolutamente una apertura, ma è una griglia chiusa, questo a favore di aerodinamica. Nella parte bassa, vedete tutta la parte di paraurti, non ci sono griglie, d'altronde non c'è un motore termico da andare a raffreddare, di conseguenza sarebbe esclusivamente controproducente. Giusto nella parte bassa c'è una piccola apertura con un leggero radiatore, lo si riesce a vedere fin da qui, fortunatamente il faro lo illumina direttamente, e questo radiatore ovviamente va a raffreddare il pacco batteri, che comunque, anche per effetto Joule, considerate che le batteri si riscaldano, così come i cavi, inverter, tutta l'elettronica di potenza, ha bisogno di essere raffreddato. I cerchi hanno un design aerodinamico, vedete il rapporto tra pieni e vuoti, è a favore dei pieni, quindi anche la regolarizzazione dei vortici che sono all'interno delle ruote è giustamente ottimizzata, ma vi voglio far vedere l'auto da lontano in tutto il suo profilo. Quindi come vedete in questa linea del tetto, che riesce ad essere estremamente accomodante, estremamente fluida, ma considerate BYD chiama le sue auto con il nome chiaramente di animali marini, in questo caso c'è la Dolphin, ma vi ho portato già sul canale la Seal che vedete lì, quindi Foca, Delfino, sono tutti animali marini, per segnalare anche non solo il legame con la natura, ma anche con queste forme fluide. Molto bello il dettaglio sul montante C con questa trama, che poi è la stessa che abbiamo visto sulla mascherina anteriore, maniglie non a scomparsa, ma in ogni caso a filo. Vedete si apre direttamente da qui, quindi la fiancata resta comunque pulita, non sono quelle tipiche maniglie come per esempio abbiamo visto sulla Seal che escono all'esterno, ma comunque risultano molto molto favorevoli in termini di aerodinamica. La presa di ricarica è sull'anteriore sinistro, scusatemi, sull'anteriore destro, e possiamo vedere che la ricarica è sia in corrente continua che in corrente alternata. Vediamo sia il connettore di tipo tradizionale, la presa di tipo 2, sia poi la CCS combo. Potete immaginare io con una mano, ovviamente, sto cercando di fare quello che è possibile. Una curiosità, però io ve la dovevo assolutamente far vedere. Allora, considerate il protocollo V12, Vehicle to Load, la possibilità di alimentare degli apparati esterni. Qui in presentazione della Dolphin, stanno alimentando una macchinetta del caffè direttamente dalla batteria della piccola segmento C. Insomma, se tutto va male, ci pensa la Dolphin. Dai che mi lancio a bordo della Dolphin. Guarda, guarda, allora, chiudiamo la porta perché non me la voglio spoilerare dietro. E mi lancio a bordo. Aspettate che devo trovare il mio spazio. Facciamo un po' il sedile più dietro, sfruttando il fatto che è un sedile elettrico. Ha una regolazione a sé vie. Allora, cosa ci troviamo avanti? Abitacolo molto simile a quello della Atto 3. Per esempio, la strumentazione è esattamente la stessa. È un display da 5 pollici che poi, tra l'altro, è curioso perché ricorda un po' i display di stampo motociclistico, no? Che siamo abituati a vedere questi display. Piccolini, densi di informazioni. Come vedete, c'è tutto il necessario per girare normalmente. Allo stesso tempo, invece, sulla destra, al centro della plancia, abbiamo un display 12.8 pollici per l'infotainment. La cosa curiosa, ve lo faccio vedere già da adesso, è che ruota, come tutte le BYD, l'Atto 3, la SIL e così via, questo ruota, diventa da orizzontale a verticale. Tra l'altro, questo con un fattore di forma anche piuttosto curioso perché è molto stretto. Quindi, quando siete in orizzontale, è molto largo ma basso. Quando siete in verticale, invece, è molto stretto ma comunque alto. Una soluzione che io trovo estremamente valida, non lo finirò mai di dire perché, permette una buona modularità e quando i display cominciano ad avere una dimensione, una diagonale piuttosto spinta, dal posto di guida magari è difficile andare a pescare quelli che sono gli angoli estremi. In generale, la cura degli interni di questa Dolphin è particolarmente alta. Molto piacevoli al tatto questi inserti, seppur comunque siano in parte con un rivestimento morbido, superficiale, ma poi sotto si sente che sono duri, ma la cosa bella e, diciamo, da sottolineare, soprattutto nel corso di questo primo contatto, è la presenza di tanti portoggetti. Questa mensola qui per, magari, un telefono, cominciamo ad avere un altro vano nella parte bassa, abbiamo il pad per la ricarica e induzione al centro del tunnel, esattamente dietro a quelli che sono i tastini che gestiscono semplicemente il freno di stazionamento e il disinserimento dei controlli elettronici. La cura dei dettagli, poi, d'altronde passa anche da particolari come, per esempio, la maniglia. Allora, ricordiamoci che questa macchina si chiama Dolphin Delfino e non vi sembra un po' una pinna questa, ok? Ciao, Delfino, batti qui la pinna. No, lo so, è bruttissima. Comunque, al di là di tutto, il richiamo alla sinuosità anche delle onde del mare, per esempio, viene portato anche sulle bocchette della reazione, mentre, invece, andando a guardare un po' quello che è il volante, volante di tipo classico, nel senso che io già l'ho visto sulla Atto 3, per esempio. Molto bello al tatto, non dà una sensazione cheap, anzi, in realtà, è una sensazione molto piacevole. E poi ha tutti i comandi necessari, non di più, non di meno, ma quelli necessari, compresa, per esempio, l'attivazione dell'assistente vocale, direttamente ben raggiungibili dal pollice. Quindi, vedete, io da una posizione di guida normale, tradizionale, anzi corretta, io non vado a spostare troppo il pollice per andare ad azionare un po' tutto. Do quest'altro lato non lo posso fare, perché ho la telecamera in mano. Però, come vedete, ci sono anche tutti i sistemi di assistenza alla guida. Quindi, cruise control adattivo, tutta la parte di, diciamo, protezione a 360 gradi della macchina, e da qui possiamo andare direttamente a girare il display. Quindi, senza andare a premere quello che ho premuto prima, che è il tastino nella parte bassa, perché questo potrebbe portare, magari, a una distrazione durante la guida. Girandoci un poco attorno, vediamo che i sedili sono sportivi, con poggiatesta integrato. Come vedete, sono molto belli, tra l'altro riscaldabili, mentre invece nella parte posteriore si riesce ad accedere. Adesso non si vede benissimo perché è molto scura, ma si riesce ad accedere molto bene in tre. E, chiaramente, chi è seduto in mezzo, anzi, sapete che vi dico, mi inquadro io stesso. Allora, nella parte posteriore si riesce a stare bene in tre. Chi siede al centro magari è un po' stretto, però la cosa interessante è lo spazio per le gambe. Uno spazio per le gambe che riesce ad accomodare tutta una vasta gamma di profili di persona. Quindi, che possano essere persone più alte, persone più basse, veramente senza alcun tipo di problema. Quindi questo è un grande vantaggio, considerando anche che nella parte bassa, allora lo stavo toccando stesso adesso, nella parte bassa del tunnel non c'è assolutamente alcun rialzo. È tutto piatto. Questo grandissimo vantaggio dell'assenza di trasmissione tipica delle auto termiche. Tutto piatto e soprattutto, oltre della trasmissione, magari anche della linea di scarico. Tutto piatto, quindi, anche chi siede in mezzo non deve stare con una gamba a destra, una gamba a sinistra, magari addosso agli altri passeggeri. E non poteva, ovviamente, mancare la parte del bagagliaio. Adesso, beh, lo faccio vedere. Un po' di roba dentro, però meglio, così vi faccio vedere un po' quanto c'entra dentro. Allora, 345 litri complessivi, forse per la tipologia di macchina, non è il massimo. Ci sarebbe da pensare un attimo, però in ogni caso il bagagliaio ha una parte modulabile che quindi potete anche andare a personalizzare in base alle vostre esigenze. Diciamo che forse per la tipologia di macchina, per il segmento al quale si vuole affacciare, c'è di meglio. Bisogna un po', diciamo, trovare la quadra con questa cubatura, questa volumetria di bagagliaio, però comunque non è assolutamente da scartare a priori. Quello poi tutto dipende dalle proprie esigenze. Finalmente sono alla guida di questa BYD Dolphine, tra l'altro con un suono Avas, che è quel suono che le auto elettriche producono fino ai 30 km orari per cercare di farsi sentire un po' attorno, che è una sorta di tema oceano, però ce l'ho nelle orecchie. Fino ai 30 km orari è fisso nelle orecchie, forse diciamo a lungo andare, soprattutto se vi mantenete sotto i 30 è un po' antipatico. Comunque parliamo un po' del powertrain. Allora, motore singolo, 204 cavalli, 310 N per metro di coppia, abbinato a una batteria da 60.4 kWh. Il fatto è che BYD dichiara 427 km di autonomia per questa macchina. Il che, pensateci, per un modello del genere sono veramente tanti, perché vi permette non solo di girare in città veramente a 360 gradi, ricaricarla neanche tutti i giorni, anzi, forse in base alle vostre abitudini, magari solo una volta a settimana, il che comincia a essere estremamente interessante, ma vi permette anche di fare uscite fuori porta, fare gite, magari in famiglia, considerando lo spazio riservato a chi c'è dietro. Il primo, esattamente il primo impatto, io mi sono messo in macchina veramente da tipo un paio di chilometri, il primo impatto assoluto, sterzo molto leggero. Ho provato qui con il tastino sulla console centrale a cambiare modalità di guida, mettendo sport piuttosto che eco oppure normal, e in realtà non cambia tantissimo. In sport si rigidisce un pochettino, ma è comunque un volante molto filtrato, sembra quello un po' di un gioco, quindi non si percepisce a 360 gradi. Come con l'atto 3 c'è il tastino per andare a gestire il recupero dell'energia infrenata. Potete decidere se standard o high, quindi niente palette dietro al volante, quindi non andate a regolarlo, se non con questo tastino e decidete l'uno oppure l'altro. Io torno nella mia modalità normal. Molto interessante il fatto che non c'è un cambio a cloche, non c'è neanche un cambio che impegna tanto sul tunnel centrale, ma è direttamente dove normalmente ci sono i comandi del climatizzatore, cosa che invece è direttamente nell'infotainment. Invece per quanto riguarda la strumentazione si vede bene, adesso siamo in una condizione di luce un po' disgraziata, si vede bene anche in queste condizioni di luce contro luce e via discorrendo. 204 cavalli ovviamente per una macchina del genere sono comunque importanti. Ecco adesso live, ve lo voglio far notare, anzi ve lo voglio raccontare, sono passato su del basolato. Basolato anche piuttosto disastrato, ero su un cuscinetto. Non so se voi in camera, nel microfono, si siano sentiti eventuali rumori passivi e così via, ma vi dico che dal punto di vista del setup sospensivo, io sono veramente stato su un cuscino. Quindi un isolamento da tutta la parte di fondo stradale molto efficace, nonostante comunque le dimensioni della macchina siano piuttosto contenute. Solitamente macchine più piccole tendono a soffrire di più, perché ecco quello che succede alla ruota anteriore destra si ripercuote su tutta la macchina. Invece qui sono passato senza intoppi di sorta anche sui binari del tram, per farvi capire, solitamente sono un passaggio un po' ostico per le macchine. Dicevo, 204 cavalli per una macchina del genere, 310 newton per metro, sono interessanti, perché considerando anche la faccenda elettrica, e BYD, pensate, si fa tutto in casa, anche le batterie, l'elettronica di potenza, l'inverter, tutto dalla A alla Z, riescono comunque a darvi una prestazione incredibile, se solo pensiamo a questo genere di auto, ma riferito a pochi anni fa, o comunque in generale ha una connotazione termica, perché una macchina del genere avrebbe avuto i suoi 100, 120 cavalli, invece adesso 204, ma soprattutto con una coppia esplosiva, perché la risposta è immediata. Appena andate a premere il pedale dell'acceleratore, vi risponde veramente subito, quasi al punto da dover stare attenti. Questa è una trazione anteriore, quindi nel caso va, tende a slittare un po' l'anteriore, bisogna stare attenti se cominciate a dare troppo gas, perché non parte in modo smooth, in modo morbido, ci sono alcune auto elettriche che tendono a partire in modo un po' più morbido quando siete a zero chilometri orari, quindi partenza veramente da fermo. Invece questa ho visto che vi dà subito un buono spunto, roba da, pam, attaccarvi al sedile. L'ergonomia, insomma, di questi sedili è buona, forse delle persone molto, diciamo, con un fisico abbastanza ingombrante, non voglio fare body shaving, ma diciamo un po' piazzate, potrebbero avere dei problemi perché i fianchetti, no, dietro formano una sorta di conca. Quindi per delle persone con una fisicità, per esempio, come la mia, è una sorta di abbraccio. Questo potrebbe essere utile anche in caso di spostamenti laterali, questa è una cosa che potrebbe aiutare tanto. In generale, comunque, mi sembra molto valida da guidare questa Dolphin come autocittadina. Ecco, per esempio, adesso sono nuovamente su un basolato, io vengo scosso leggermente, ma molto meno di quello che mi immagino. Se poi andiamo a impegnare la macchina in curva, si sente che nei cambi di direzione veloci il posteriore ti risponde un po' in ritardo. Non si sente tanto il peso delle batterie. Quindi questo è un grande vantaggio, ma d'altronde avere delle batterie, come al solito, un pacco batterie anche un po' più piccolo, perché BWD riesce a garantire queste batterie molto piccole, ma con una buona densità energetica, anzi, un'ottima densità energetica, piazzate molto in basso, vicini al baricentro, che non vanno a scompensare quello che è il setup della macchina. Quindi questa Dolphin è morbida sul basolato, sul dissestato, ma comunque è reattiva nei cambi di direzione, con l'anteriore e il posteriore, come vi dicevo prima, arriva leggermente più in ritardo. In quanto a freni, ci sto facendo un po' di amicizia, ci sto facendo un po' l'abitudine, il pedale è morbido. C'è una prima parte della corsa che è un po' più soft, cioè un po' più soft, per esempio, l'andate a premere poco se vi state avvicinando a un semaforo, come sto facendo io in questi casi. Se dovete incrementare la potenza frenante, andate a schiacciare un po' di più e il pedale comincia in modo progressivo ad essere sempre più solido sotto al piede. Lo cominciate proprio a sentire. Ho provato anche a farci manovra, le telecamere a 360 gradi si vedono bene, il raggio di sterzata anche mi è parso buono perché ho dovuto realmente fare un'inversione. Ecco, in termini di telecamere, me le stavo guardando adesso, possiamo scegliere veramente la telecamera che più ci aggrada, sia l'anteriore, posteriore, i fisciai oppure no, addirittura quelle sotto agli specchietti che ti permettono magari di guardare lateralmente alla macchina. Potete andare a scegliere quella che volete, anche in velocità, io adesso sono a 45 km orari, le telecamere funzionano, solitamente a queste velocità si disattivano. Quelle sotto agli specchietti, vi dirò, si vedono un po' distorte. In realtà, ultime cose da dirvi sono il prezzo e soprattutto una cosa sulla ricarica. Allora, la Dolphin ricarica 11 kW per quanto riguarda la ricarica in corrente alternata, mentre invece arriva solo, tra virgolette, a 88 kW di potenza per quanto riguarda la ricarica continua, quindi con la presa CCS Combo. Non è sicuramente il massimo, 88 kW, però considerando che è una batteria non particolarmente grande, si riesce a recuperare molto velocemente l'autonomia disponibile. Per quanto riguarda il prezzo, invece, partiamo da circa 35.500 per il modello base per il mercato italiano, seppur nel 2024 avremo comunque dei modelli differenti, anche con delle motorizzazioni più parche sia nella potenza che nei consumi. Detto questo, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciatemi un like e soprattutto ci vediamo alla prossima. Ciao!